Il primo appuntamento è stato il 17 maggio, era nel corso della settimana del governo aperto, dell'Open Go Week e se vi ricordate con i nostri due esperti Antonio Tappi e Federica Ciampa abbiamo parlato delle competenze, presentando un quadro sinottico delle competenze digitali, in particolare con un focus sulle competenze di leadership, mettendo insieme quelle che sono le principali fonti oggi a disposizione sulle competenze digitali, diversi framework sia per le competenze digitali del cittadino come Digicomp, sia per le competenze digitali per la pubblica amministrazione, facendo riferimento anche al syllabus del Dipartimento della Funzione Pubblica e comunque anche alle linee guida di Agile eccetera eccetera. Oggi riprendiamo il discorso con un po' più di tempo rispetto al format dell'Open Go Week che ci imponeva un'ora, oggi abbiamo a disposizione un'ora e mezza e vi approfondiremo sempre con Antonio Tappi il discorso del modello che è stato fatto ricavandolo da appunto queste fonti che vi ho citato e diciamo esplicitando un po' meglio facendo l'esempio sull'analisi di una competenza, vedendo quali possono essere dei scrittori e come si fa appunto a scendere un po' più nel dettaglio. C'è una parte di cui poi vi racconterà Teresa Tuozzi che invece è ricavata dalle interviste che abbiamo fatto, dalla rilevazione che abbiamo fatto presso le amministrazioni a cui abbiamo chiesto ai responsabili per la transizione digitale e alcuni referenti dei loro uffici delle informazioni per capire organizzativamente come avevano strutturato il servizio e che tipo appunto di impostazione davano intanto alla formazione. Quindi Teresa vi resoconterà un po' di quegli aspetti lì, mentre io alla fine vi darò un rapido quadro di quelli che sono adesso i progetti di Formez con diversi committenti che si occupano di competenze digitali per la pubblica amministrazione e per i cittadini. Vi ricordo che questo è un progetto che si inserisce nell'ambito del progetto più grande Italia Login, la casa del cittadino di Agit che è il nostro committente in questo caso. Il progetto si chiama Informazione e formazione per la transizione digitale dell'APA. In particolare questa è un'attività che ricade nell'ambito della linea 1 che si occupa della gestione per la trasformazione digitale. Vi ricordo anche che questo è un ciclo di tre webinar che vi rilasceremo un attestato di frequenza dopo il terzo webinar che si svolgerà il 7 giugno. Rilasceremo l'attestato che avrà partecipato almeno a due webinar su tre. Vi anticipo che il 7 giugno che è il nostro ultimo appuntamento faremo un incontro con alcune delle amministrazioni che hanno partecipato alla nostra rilevazione. Quindi sarà un webinar che sarà impostato un po' come una tavola rotonda e tratteremo questi argomenti direttamente con le amministrazioni. Allora io do subito la parola a Antonio Tappi e vediamo se Antonio si collega se lo sentiamo e vediamo lo vediamo vediamo se parli e ti sentiamo ecco, allora ti lascio la parola per il tuo intervento. Grazie Patrizia, buongiorno a tutti ben ritrovati siamo quindi giunti al secondo appuntamento di questo ciclo di webinar su cui noi andiamo un po' a presentare come già avevamo fatto nel primo incontro il nuovo framework di riferimento rispetto alle competenze di leadership. Oggi il mio intervento vi porterà un po', vi illustrerò dapprima un po' quelle che sono state le logiche e lo scenario da cui siamo partiti per andare poi a realizzare questo lavoro di questo modello di leadership. Da dove siamo partiti? Qual è il contesto che abbiamo un po' analizzato? E quali sono in effetti poi diciamo oggi le strategie, l'idea di innovazione e cambiamento che sta diciamo sempre più trainando la pubblica amministrazione e quindi di conseguenza nuove logiche e nuove aree di competenza che per gestire queste attività di cambiamento sono necessarie nella pubblica amministrazione. In realtà in tutto il contesto socio-economico sicuramente è un momento di forte transizione non lo dicono solo le denominazioni dei ministeri piuttosto che le più diffuse terminologie quella delle transizioni. Veramente siamo in un periodo di forte transizione in cui le competenze hanno un loro loro importante e sempre più rilevante. Per cui farò una prima carrellata un po' diciamo dello scenario della strategia dell'innovazione per poi in voi andare più in profondità rispetto al percorso progettuale percorso di analisi che abbiamo svolto sia a livello diciamo di analisi test sui documenti di reddito interesse per quello che riguarda l'ambito competenze sia per quello che riguarda la rivelazione di studi di caso che è il lavoro di analisi organizzativa che abbiamo svolto attraverso interviste a un gruppo di amministrazioni per poter poi ricavare ulteriori informazioni relative all'aggiornamento del modello. Quindi un po' come scenario come obiettivo della giornata è quello di darvi delle indicazioni su perché oggi innovazione e cambiamento come è sempre stato ma oggi più di prima è diventata una necessità per l'amministrazione pubblica che vuole contribuire a creare valore per la collettività. Cioè questa idea questo concetto di innovazione è un concetto che noi abbiamo utilizzato per cui mi premeva darvi delle specifiche rispetto al ragionamento che abbiamo fatto e le riflessioni che hanno portato poi all'elaborazione del modello e leadership per le quali è importante capire oggi quanto sia importante per la pubblica amministrazione gestire, saper gestire il cambiamento. vi darò qualche elemento dello scenario dell'ingresso di strategia e della strategia dell'innovazione digitale a che punto siamo in Italia a che punto anche questo contesto di cambiamento tocca fortemente l'ambito competenze del personale della pubblica amministrazione. e vi presenteremo quindi alcuni modelli e strumenti che in questa logica diciamo di integrare il cambiamento possono mettono il focus sulle competenze proprio il modello i leadership che abbiamo presentato nella scorsa volta di cui vi darò ulteriori informazioni più approfondite e i risultati del percorso progettuale che riguarda anche i casi di studio. a termine di questa panoramica a cui già aveva presentato oggi la dirigente dei lavori Patrizia avremo una piccola diciamo panoramica dell'iniziativa di sostegno alla pubblica amministrazione e dell'offerta formativa che oggi si trova in ambito competenze molto vasta molto ampia molte iniziative progettuali che in qualche maniera vedremo un quadro che possa essere di supporto anche diciamo poi a informarvi aggiornarvi da diverse fonti su quelle che sono diciamo le attività in corso partendo da quali sono un po' facendo diciamo una cernita sui tanti documenti di indirizzo strategico e di indirizzo dell'orzionale dell'innovazione possiamo ritrovare proprio come diciamo l'ambito formazione l'ambito competenze l'ambito diciamo innovare è già raccolto in vari documenti come per esempio nella strategia per l'innovazione tecnologica della digitazione del paese 2025 troviamo già all'interno del documento che proprio per sfruttare i benefici che diciamo l'innovazione sta portando l'innovazione tecnologica in particolare lo sviluppo della tecnologia è necessario fornire ai lavoratori le competenze per il lavoro sembrano cose scontate ma le riporto e diciamo ho fatto un piccolo diciamo tagli e cuci di quelli che sono gli elementi che parlano di competenze in questi documenti strategici di indirizzo strategico che da varie fonti ovviamente alternativi istituzionali andiamo a trovare proprio per darvi un po' il quadro di come se ne sta parlando e già da qualche anno è un elemento cruciale delle iniziative strategiche nel mondo pubblico lo ritroviamo anche negli obiettivi del piano Italia Digitale 2026 e cioè quel piano che accompagna poi tutto il piano di PNRR il piano nazionale presidenza e ripresa ripresa residenza in cui anche qui uno degli obiettivi è quello di colmare il gap di competenze digitali con almeno il 70% quindi ponendo anche degli obiettivi misurabili e specifici in questo scenario prendendo altra aumentazione quindi in questo caso il programma di innovazione strategica della pubblica amministrazione del dipartimento di funzione pubblica in cui si parlava in un piano queste sono presentate dal dal ministro si parlava di PA sostenibile si parlava di competenze di una competente capace al servizio di cittadini imprese nelle competenze come vedete tutto quello che è la riqualificazione della formazione del rafforzamento del capitale umano è un punto che emerge chiaramente in cui si parla e si intendono nuovi profili una ridefinizione dei profili competenze specifiche e traversali soft skill queste specifiche diciamo attività che erano previste che poi via via si stanno realizzando sono proprio il cuore l'oggetto su cui noi poi abbiamo lavorato da questo scenario abbiamo cercato di trasferire e di aggiornare in un modello i leadership questi concetti di ridificazione dei profili stessa cosa l'abbiamo unito anche come vedete nella presentazione di questa slide di questo piano presentato nel programma di innovazione l'introduzione di nuovi modelli organizzativi e procedure operative anche questo è un ulteriore elemento che noi abbiamo preso in considerazione facendo poi questa attività di analisi organizzativa tutto quello che è innovare la pubblica amministrazione vuol dire aumentare il livello di competitività perché anche partendo dal concetto che vi voglio trasferire dell'innovazione cioè perché innoviamo perché la pubblica amministrazione debba innovare perché debba innovare le competenze si trova deve trovare una risposta che non è solo perché esiste la tecnologia o piuttosto perché oggi il mondo cambia il mondo cambia leggo che qualcuno non sente non sente bene non so se mi sentite io altrimenti mi tocco le cuffie non so se il resto dei partecipanti vedete un partecipante che scrive in chat si sente si sente ok ok si sente vai tranquillo vado avanti sempre nell'ambito diciamo di questa diciamo questi specifici documenti presentati nel corso degli ultimi anni rivediamo anche come gli interventi di formazione del personale della rigenza quello che riguarda la riforma del capitale umano quindi degli interventi di riforma sul capitale umano troviamo incremento dell'efficacia dell'efficienza formativa per il personale della pubblica amministrazione che sicuramente diciamo è un'attività in svolgimento per grandi su varie su varie linee su varie tematiche e diciamo ho posto un po' l'accento sullo sviluppo delle competenze manageriali e su la gente diciamo proattivo nella gestione del cambiamento cioè pubblica amministrazione dirigenza pubblica in questo caso ma piuttosto insomma comunque personale che fa parte della pubblica amministrazione deve diventare sempre di più un agente che faccia da promotore nella gestione del cambiamento è un po' qui la logica su cui noi poi andiamo a a modulare il lavoro di riflessione il lavoro di analisi che ci ha portato poi al modulo quello insomma di una di vedere una figura che sia capace di gestire il cambiamento in tutte le sue fasi quindi un'ulteriore diciamo dimostrazione che nel programma di innovazione strategica della pubblica amministrazione anche questo già emerge chiaramente l'altro ambito che un po' abbiamo tenuto in considerazione e che anche questo ritroviamo nel programma di innovazione strategica della pubblica amministrazione è quello dell'innovazione organizzativa ovviamente tutta la modernizzazione e l'efficientamento della pubblica amministrazione italiana che passa da sia nuove modalità di lavoro quindi tutto quello che ha a che fare con oggi con la messa al sistema del lavoro agile piuttosto che da attività di reingegnerazione dei processi e ovviamente di un aggiornamento dell'offerta di servizi per la pubblica amministrazione perché attraverso una modernizzazione io riesco come pubblica amministrazione a modernizzare a accelerare a migliorare a rendere più efficienti i miei servizi offerti al cittadino e alle imprese quindi come vedete da una parte interventi sul capitolo umano dall'altra parte interventi che vadano a migliorare innovare gli aspetti gestionali amministrativi in termini di reingeggiazione dei processi queste due anime le ritroviamo poi nel nostro nel nostro modello sempre per darvi invece poi un'idea di come poi si sta muovendo anche dal punto di vista un po' del futuro l'innovazione di interventi questo diciamo lo conoscete tutti immagino parliamo del PNRR che oggi ormai all'ordine del giorno ci sono una serie di ovviamente diciamo di fonti di seminari insomma attività di aggiornamento che potete comunque svolgere su questo tema io qui ho semplicemente riportato sempre inerentemente al discorso e al discorso che stiamo facendo quelli che sono gli interventi in termini di digitalizzazione della pubblica amministrazione quali sono è una missione la missione 1 parla di digitalizzazione innovazione e competitività di 40 miliardi di euro in cui la parte 9 miliardi e 7 come vedete sono relativi alla digitalizzazione innovazione e sicurezza e la pubblica qui dentro si troveranno poi nelle varie attività nei vari avvisi del PNRR si troveranno tutte le attività di riforma in ambito digitale considerate che il 27% delle risorse sono destinate alla transizione digitale noi abbiamo a che fare sicuramente con quello che riguarda il cambio diciamo nuove competenze da acquisire nuove aree nuove conoscenze abilità e compiti molto a che fare con quello che è l'ambito di transizione digitale dopo l'istituzione della figura del responsabile di transizione digitale l'organizzazione dell'ufficio di transizione digitale tutte quelle che sono le competenze relative a questo ambito sono molto ampie e molto nuove per le quali insomma sicuramente un investimento in termini di riforma e un diciamo e interventi specifici saranno oggetto nei prossimi nel prossimo periodo sicuramente di interventi abbastanza corposi anche qui nell'intervento di riforma del PNRR si parlava di grande investimento sul capitale umano si parlava nella strategia di innovazione del PNRR e l'emissione di nuove competenze e reingenerazione dei processi organizzativi per favorire la transizione digitale proprio questo emissioni di nuove competenze e reingenerazione dei processi organizzativi è l'obiettivo del progetto su cui stiamo lavorando e del lavoro in progress di cui il modello è un primo risultato il modello di leadership è un primo risultato e afferisce proprio un po' a queste dinamiche queste dinamiche strategie dove stiamo stiamo andando la direzione dove stiamo andando tutti come vedete nelle riforme la PAG digitale ha uno specifico riferimento al capitale umano e alle competenze e alla digitalizzazione sono due aspetti che vanno di pari passo e che sono sempre più oggi oggetto di attenzione da parte delle istituzioni delle strategie che afferiscono a questi percorsi però tutto questo è lo scenario strategico su cui stiamo muovendo e sicuramente l'impegno che è stato preso e che tutta l'amministrazione pubblica dovrà accogliere come sfida dall'altra parte se vediamo i dati relativi un po' alla digitalizzazione del paese dell'Italia questo è un report annuale della commissione europea il DESI Digital European Association Index che probabilmente conoscete tutti che vi ho riportato come dato diciamo di partenza perché ovviamente anche le politiche di innovazione e tutto quello che è necessario diciamo fare investire dobbiamo partire poi dai dati tra i vari dati di valutazione di innovazione di digitalizzazione quello del DESI è uno dei quelli più diciamo riconosciuti a livello europeo e che comunque mette in a confronto tutti i paesi membri per il quale insomma diciamo l'Italia deve sempre dare un oro se qui vedete nel report complessivo l'Italia non è sicuramente nei primi posti ha acquisito qualche posizione in più rispetto allo scorso anno alla rilegazione del 2020 però insomma si posiziona ancora un po' in ritardo rispetto al resto del anche sotto la media dell'Unione Europea che vedete rappresentata un po' qui al centro i vari colori dell'istogramma qui rappresentato sono delle diverse dimensioni che sono valutate e che sono sono diciamo poi oggetto della rileazione del report annuale della Commissione Europea e nelle varie diciamo nelle varie dimensioni su cui viene calcolato quest'indice sicuramente lo vedete da qui ma lo vedete meglio da quest'altra slide che ho preparato la dimensione del capitale umano quindi tutto ciò che che afferisce all'ambito all'ambito delle competenze del capitale umano e della formazione e vedete l'Italia si posiziona al terzo ultimo posto quindi è molto indietro rispetto a quello che qui viene diciamo rappresentato come competenze digitali quindi tutto quello che afferisce un po' alle competenze digitali per il paese Italia è indietro anche rispetto alla media diciamo al risultato complessivo del DESI che colloca l'Italia a una posizione più avanzata rispetto a quella rispetto alla dimensione del capitale umano e questa dimensione su cui l'Italia è sicuramente più indietro e dovrà intervenire in maniera diciamo molto più concreta e forte proprio per migliorare questo indicatore per migliorare poi gli aspetti che vanno ad accrescere le competenze digitali e vanno ad accrescere quindi la competitività del paese nei confronti del resto dei paesi che si portano avanti come vedete i paesi diciamo principali sono diciamo i soliti la Finlandia la Tess l'Olanda la Danimarca che sono sempre molto più avanzati in quest'ambito delle competenze digitali poi un po' per cultura un po' per investimenti fatti sicuramente l'Italia deve migliorare crescere sia le competenze digitali dei cittadini sia quelle delle persone della pubblica e sicuramente quindi in questo scenario è un lavoro in progress molto diciamo molto importante e molto approfondito che dovrà essere sviluppato in questi ci sono le risorse come abbiamo visto ci sono sicuramente indicazioni strategiche di governo per cui per cui sicuramente su questo si potrà e si dovrà intervenire tutto questo per arrivare a diciamo arrivare al punto in cui oggi si troviamo in questa epoca cioè il perché del cambiamento viene da tutto questo insieme di da una parte c'è una strategia che ci porta a cambiare a migliorare a avanzare in termini di competenze dall'altra parte c'è la necessità di innovare la pubblicizzazione in termini organizzativi il fatto di introduzione della tecnologia in maniera favorevole e adeguata e tutto questo quindi viene riportato da tutto quello che sono un po' l'input al cambiamento e l'input poi a quello che è necessario oggi fare perché siamo di fronte a un quadro istituzionale normativo in forte cambiamento siamo di fronte a una crisi sociale e una crisi economica dovuta alla pandemia di questi ultimi anni dei ruoli di media sempre più che intervengono insomma anche sulle prospettive della pubblica amministrazione il mondo digitale sempre più sviluppato tutto quello che ha a che fare col PNRR e le riforme che vengono attuate e che saranno in questi anni attuate necessitano di un cambiamento per il quale sicuramente le competenze sono un un fattore importante direi imprescindibile di rinnovamento e di aggiornamento così per per darvi così cioè semplicemente una rappresentazione un po' così teatrale ma che mi piaceva diciamo immaginare il passato forse non quello diciamo recente ma diciamo il passato della pubblica amministrazione in generale del mondo era un po' un lago piatto dove tutti rimavano la stessa diciamo verso la stessa direzione in maniera diciamo uniforme oggi il contesto è molto e molto cambiato cioè per essere competitivi bisogna attrezzarsi bisogna imparare a diciamo navigare nelle rapide di un fiume abbastanza agitato e bisogna trovare soluzioni che siano sempre più moderne e innovative e che siano in qualche maniera guidate da nuovi rioni e nuove competenze che fanno appunto da guida da driver cioè bisogna sapersi mantenere a galla ma direi diciamo andare anche rapidi molto veloci e cercare di di trovare le soluzioni che che fanno sì che possa portare diciamo avanti la macchina amministrativa della pubblica amministrazione in maniera sempre più efficiente e reale sicuramente le competenze e i ruoli all'interno della pubblica amministrazione sono un fattore determinante questo 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 racconto che vi fa sembrare in qualche maniera diciamo introduttivo ma che serviva a entrare nel percorso di analisi che abbiamo svolto perché erano i concetti basi innovazione e cambiamento strategia di innovazione competenze interventi di riforma e necessità e perché del cambiamento e quindi in questo cambiamento sicuramente l'ambito di competenze e leadership diventa l'oggetto poi del nostro progetto e del nostro percorso di analisi complessivo che ci ha portato poi all'elaborazione del modello l'abbiamo strutturato in diversi passaggi prima battuta un'analisi desk della documentazione di ritenuta di interesse e quindi documenti che andiamo poi a vedere relativi alle competenze digitali con questa diciamo variabile sulle leadership quindi la parte diciamo del digitale da cui poi è emerso un primo quadro sinottico per poi approfondirlo attraverso un'intervista organizzativa e casi di studio in cui abbiamo acquisito dei primi elementi per poi di andare a rimodellare e a varie release successive andremo a consolidare via via il modello percorso analisi il progetto a cui fa riferimento questo lavoro che vi stiamo presentando è quello di informazione e formazione per la transazione digitale dell'APA Italia Login la casa del cittadino che è proprio diciamo all'obiettivo appunto di informare e formare nell'ambito transizione digitale quindi tutti gli strumenti a supporto di questo per favorire la transizione digitale come può essere il modello di leadership e i casi di studio sono elementi che afferiscono al progetto al percorso progettuale nello specifico nell'analisi desking che cosa è consistita questo già l'abbiamo visto la scorsa volta ma mi permesso di sottolineare anche a beneficio di chi non avesse potuto partecipare al primo incontro di apertura abbiamo messo insieme in una logica di aggiornamento di focus aggiornato tutti i contenuti di varie documentazioni che sembrava inerente diciamo l'oggetto del lavoro abbiamo cercato di acquisire tutti quelli che erano gli elementi peculiari un po' di interesse di accordo per offrire anche una lettura comparata di sintesi in modo tale da sviluppare poi dei nuovi contenuti in tema di leadership per poi produrre un documento finale con proposte di scrittori di nuove competenze quindi sostanzialmente noi che cosa abbiamo fatto abbiamo avuto diciamo abbiamo pensato a mettere insieme e a cercare di fare una lettura comparata alcuni documenti i documenti oggetto di analisi sono questi che probabilmente tutti conoscete che hanno una loro diciamo logica un loro focus e alcune caratteristiche di ogni modello di questi documenti un po' diversi l'uno dall'altro che anche in una logica di sistematizzazione dei contenuti perché abbiamo veramente tanti documenti ufficiali e che si siano diciamo che si siano occupati di competenze di competenze digitali e di leadership metterli a sistema metterli diciamo a confronto tra di loro attraverso una lettura comparata ci permette in primo luogo di andare un po' a cristallizzare dei contenuti degli elementi che sembrano diciamo focale rispetto al lavoro di aggiornamento del modello di leadership che abbiamo avevamo diciamo in mente dall'altra parte anche fare un po' d'ordine sui vari documenti perché siamo spesso abituati un po' tutti lavorando nella pubblica amministrazione ad avere documenti in linea guida vari che però magari diciamo se riusciamo a intercettare in maniera trasversale ci possono aiutare poi a accogliere degli aspetti che normalmente non riusciamo a accogliere i documenti sono il sillabus delle competenze digitali per l'applicazione pubblica che è un set diciamo fornisce un set di competenze minime per i dipendenti pubblici il digicomp che è il quadro di competenze per le competenze digitali dei cittadini noi abbiamo analizzato la versione 2.1 in realtà è a marzo a marzo di quest'anno è uscita la nuova versione 2.2 che peraltro sarà oggetto di un webinar successivo a questo penso alle 2.30 ci sono altri webinar che presenterà le aggiornamenti del documento di gcomp sulle competenze digitali dei cittadini quindi è stato un aggiornamento su alcuni elementi rispetto alla prima versione che noi abbiamo analizzato di fatto comunque il nostro lavoro magari poi andrà aggiornato su qualche elemento ma le linee guida delle competenze digitali di Agit che è un po' la traduzione la messa diciamo in atto dei contenuti e le dimensioni rispettive in digicomp Agit è un po' tradotto in italiano è tradotto rispetto ad alcuni elementi che erano inersi e poi due documenti finali abbastanza nuovi lo sviluppo delle competenze di leadership nel settore pubblico che è un rapporto dell'Ocse che già evidenzia alcuni aspetti noi poi ci è sembrati diciamo comunque sia aggiornare un po' il mondo diciamo il mondo i scrittori di competenze del digitale infatti vengono introdotti già alcuni ruoli chiave si parla di ruoli chiave digital manager gestori non digitali gestori non digitali quindi alcune denominazioni che sono diverse dai precedenti documenti analizzati e poi la norma uni di 11814 che è una norma quindi dell'ente di normazione italiano pubblicata a maggio che che stabilisce un po' fa un focus sulle figure professionali operanti nel campo della gestione dell'innovazione quindi stabilisce alcuni requisiti di base per chi è in ambito pubblico privato con le figure personali che gestiscono l'ambito innovazione questo quest'analisi che appunto ha riguardato questi documenti ci ha permesso poi di andare a cogliere quelli che erano gli aspetti più prettamente innovativi diciamo di attualità che sembravano rispetto a tutto lo scenario che ho presentato all'inizio ci sembravano sicuramente peculiari per questo diciamo per questo lavoro per l'introduzione di questo nuovo framework le variabili quindi che abbiamo considerato sono quelle che nel contesto diciamo nel cambiamento del contesto abbiamo specificato quindi nuovo elemento di contesto sociale nuovi strumenti tecnologici normative percorsi formativi anche che stanno cambiando via via si stanno attualizzando i percorsi formativi sia in termini di istruzioni professionalizzanti sia in altri temi tutto quello che riguarda le risorse digitali del PNNR abbiamo quindi aggiornato abbiamo individuato quali potrebbero essere i possibili upgrade del modello di competenze leadership e tutto quello che afferisce con la trasformazione digitale nelle pubbliche amministrazioni tutto questo ci ha portato ad impostare il modello su una riflessione quello che le nuove competenze dovranno avere un focus sul ciclo di gestione dell'innovazione su come guidare all'interno di un'organizzazione pubblica come gestire tutto quello che è un processo di innovazione il processo di innovazione inteso come un vero e proprio processo come un processo amministrativo il processo di innovazione è gestito a tut cur in una logica di ciclo di miglioramento continuo di gestione questo è il concetto base su cui lo studio l'analisi approfondita dei documenti il confronto anche sull'aggiornamento dei documenti come soprattutto gli ultimi norma uni il rapporto Ocse emergevano nel nostro studio e nell'analisi ci ha portato a ragionare su un modello di leadership che si basi sul ciclo di gestione dell'innovazione quindi abbiamo inserito nuove competenze abbiamo fatto una riclassificazione di base e da questa raccolta di elementi abbiamo tirato fuori la nuova macro classificazione di competenze che si compone di cinque ambiti gestione librido guida l'innovazione gestire l'innovazione valutare l'innovazione e abbiamo un po' aggiornato il profilo proprio rispetto a un discorso di approfondimento di attenzione più a quelle che sono le competenze manageriali trasversali diciamo così nel pubblico e non diciamo manageriali digitali cioè non ci siamo soffermati su aspetti tecnici di cui peraltro esistono norme esistono altre linee guida specifiche sui profili ICT chiamiamoli così e su cui già si è stato fatto un lavoro anche specifico direi tecnico e ci siamo più soffermati su quelli che sono le skill del manager di innovazione questo è il percorso che abbiamo svolto vado rapidamente perché fondamentalmente diciamo è quello che vi ho raccontato quindi sia la parte di analisi di desk sia la parte di analisi dei casi ci ha portato a questo nuovo modello in cui vengono definite nuove competenze di leadership e vengono individuati dei nuovi profili tutto intorno a questo discorso di gestire cercare di favorire una nuova cultura dell'innovazione questo ovviamente ha un impatto su tutto quello che è l'ambito poi formativo di fabbisogno formativo della pubblica amministrazione e che piano piano su cui l'offerta formativa si sta adeguando e si andrà adeguare nel corso dei prossimi anni questo è il cuore insomma del modello dove a queste fasi del ciclo di gestione e innovazione per ognuna delle quali è rappresentata una macro competenza e a seguito ci sono delle competenze e a seguito dei descrittori di queste competenze in termini di conoscenza abilità e autonomia che si identificano in queste quattro aree più quella l'area di gestione del librido è un'area che va a racchiudere tutti gli elementi del ciclo quindi gestire il librido vuol dire tutto quello che oggi ha a che fare con la modalità di lavoro a distanza attraverso il digitale piuttosto che in presenza comunque diciamo questa nuova diciamo nuova competenza che è attualmente tra le diciamo più richieste necessarie il modello come vi rappresentavo prima è formato da una macro competenza l'area competenza guidare innovazione gestire introdurre gestire organizzare valutare innovazione per ogni area di competenza sono stabilite delle competenze lo vedete qui rappresentate in verde la parte di guidare dell'innovazione ci sono cinque competenze e per ogni competenza ci sono dei sette dei strutturi aggiornati a ognuno di questi sono associati dei profili che vi vado a far vedere qualche esempio vi mostro questo esempio riguardo alla alla gestione della valutazione dell'innovazione come vedete quest'area di competenza identificata nel modello nel framework aggiornato di e-leadership che abbiamo realizzato ha una serie di competenze analisi e valutazioni dei programmi valutazioni politiche pubbliche consapevolezza cultura della misurazione analisi e sintesi per l'indicatore chiave di prestazioni a ognuna delle quali è associato una serie di conoscenze e abilità che sono i nostri descrittori in cui noi andiamo a raccogliere appunto e a descrivere in maniera particolare quali sono le competenze vediamo consapevolezza cultura della misurazione conoscenza dei metodi delle metriche di analisi di valutazione conoscenza delle tecnologie abilitanti e così via quindi per ognuna di queste sono stati stabiliti diciamo poi dei descrittori questo vuol dire ovviamente ve lo riporto anche qua in prima battuta vi dico che da quello poi sono ad ogni competenza è riportato un profilo qui vi è riportato il profilo di manager di innovazione le figure che abbiamo individuato come profili che possono essere un po' rimodulate in termini diciamo di terminologia tecnica ma sono il manager dell'innovazione lo specialista dell'innovazione il tecnico dell'innovazione a secondo qual è il livello anche un po' apicale e il livello di intervento in interno della pubblica amministrazione di intervento politico strategico il manager dell'innovazione con il quale in qualche maniera ha dei poteri apicali di gestione nell'ambito della pubblica amministrazione lo specialista è un po' rappresentato dal responsabile di un ufficio che ha un livello diciamo leggermente meno manageriale dirigenziale ma che comunque ha una posizione diciamo organizzativa per la quale dovrà gestire delle attività è il tecnico dell'innovazione dell'altra figura così chiamata come profilo di leadership è un po' diciamo rappresenta un po' un dipendente che deve gestire delle pratiche gestire delle attività un po' più operative specifiche per le quali comunque si richiedono determinate competenze per farvi diciamo per rappresentare questo esempio del profilo del manager dell'innovazione l'area di competenza in questo caso tra le varie aree di competenza quello di gestire e valutare l'innovazione e queste e le competenze così rappresentate ovviamente in ognuna di queste competenze vuol dire avere delle conoscenze e l'abilità che noi abbiamo comunque rappresentato nel modello e vuol dire anche fare un'attività magari di rafforzamento di competenze quindi di formazione specifico che vadano a irrobustire questi elementi perché di fatto tutto quello che è stato tutto quello che è stato un po' il lavoro che ci ha fatto fare una serie di riflessioni va a edituare ovviamente quelli che possono essere i percorsi formativi gli ambiti di intervento di formazione immaginate ovviamente tutto l'ambito di formazione è un ulteriore oggetto diciamo di 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 attenzione da parte del governo è stato presentato se qualcuno lo conosce il piano di riforma del personale di formazione del personale a livello macro dal ministro Brunetta per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione e ovviamente tra i vari come dice i vari fabbisogni formativi attraverso un modello di leadership che abbiamo un po' così composto con queste logiche intorno alle quali si muove un po' la gestione di innovazione non più come un qualcosa sempre visto come un qualcosa di sport un'innovazione è sempre vista una pubblicazione che è un'introduzione di una tecnologia che mi porta a migliorare un qualcosa ma che finisce lì in realtà la logica su cui si impronta un po' il modello le nuove competenze che abbiamo inserito i nuovi profili ragionano sulla logica per cui l'innovazione non è più un processo spot che ha un inizio o una fine quello è un progetto innovazione qui si parla di un processo vero e proprio come un processo che si inserisce nei processi di lavoro della pubblica investitazione quindi gestirlo saperlo essere capaci di guidarlo di gestirlo di monitorarlo di valutarlo e di andarlo poi a migliorare richiedere le competenze nuove come in questo esempio in cui nella competenza a valutare per l'innovazione l'oggetto l'area di competenze e consapevolezza della cultura e della misurazione da questo come vedete possono derivare una serie di bisogni e percorsi formativi che sono quelli degli ambiti delle conoscenze che abbiamo stabilito o intorno a questo per esempio conoscenze delle tecnologie abilitanti strumenti informatici e supporto delle realizzazioni dei sistemi di valutazione vuol dire produrre un'offerta formativa specifica su questa specifica area di competenza andando a concludere i prossimi passi sono quelli di aumentare un po' l'analisi dei casi con altri incontri che abbiamo pianificato e dovremmo fare per raccogliere ulteriori feedback per chi da di dentro le organizzazioni riesce meglio ad individuare quali possono essere ulteriori elementi delle competenze per favorire la transizione digitale che ci fanno modo poi di aggiornare il modello per arrivare a un modello consolidato di fatto la risposta a cui cerchiamo abbiamo cercato di rispondere in questo lavoro e quale figura e quali competenze e quali strumenti abbiamo oggi di cui abbiamo bisogno per gestire l'innovazione e il cambiamento perché di questo poi si tratta di saper di diciamo e oggi tutte le amministrazioni hanno preso un po' coscienza del provvisore di competenze anche molte trasversali per rilasciare un'innovazione di valore quindi estendendo un po' questo concetto innovazione e cambiamento nel suo complesso per noi insomma rappresentare questo modello di leadership così di un framework aggiornato vuol dire un po' pensare a queste competenze moderni un po' questo lavoro è un lavoro un dibattito aperto diciamo quelli che si occupano di queste tematiche all'interno delle amministrazioni e che cambia un po' il paradigma da esperienze competenze un po' tecniche ma anche in tutte le varie ambiti che però sposta un po' l'attenzione su come saperla gestire questa innovazione e come gestire questo cambiamento diciamo a questo punto vi lascio poi così all'approfondimento e anche la collega mi segura Teresa vi potrà dare su quello che è l'aspetto dell'analisi dei casi su cui abbiamo preso questo spunto grazie mi passo la parola a Patrizia e a Teresa grazie mille grazie mille Antonio come avete visto le slide che vi ha presentato Antonio Tappi consentono anche di approfondire l'argomento al di là appunto di quella che è stata l'esposizione che per forza di cose diciamo è costretta nei tempi quindi però le slide ci abbiamo tenuto Antonio è stato bravo a farle in maniera che ci siano indicazioni che vanno anche un po' oltre la comunicazione che ha fatto rispondo anche a voce a quello che già ho scritto online io non mi sono accorta di questo errore di questo refuso ma oggi è il secondo webinar del ciclo il terzo come vi dicevo prima è il previsto per il 7 giugno è sempre un martedì sempre la stessa ora dalle 12 alle 13 e 30 e come vi dicevo prima sarà un webinar in cui avremo la testimonianza diretta delle amministrazioni quindi questo ciclo si compone di tre e oggi è il secondo allora per continuare un po' il discorso dove l'aveva lasciato Antonio Tappi diamo la parola a Teresa Tuozzi che diciamo vi indica quali sono i nuovi ruoli e le competenze per favorire la transizione digitale vi lascio la parola Teresa buongiorno buongiorno a tutti mi sentite bene? sì ok allora buongiorno a tutti l'obiettivo di questo mio intervento è approfondire alcuni aspetti relativi le competenze di leadership che sono emersi dallo studio di questi casi in parte già presentati questi elementi ma cercheremo di approfondirli e scendere più nel concreto di quello che significano a livello di competenze partiamo da un inquadramento della realtà delle amministrazioni che hanno partecipato e un po' di tutte ci tengo a dire che questa non è una fotografia esaustiva né dell'EPA in generale né di quelle che hanno partecipato ma è una restituzione di ciò che le persone coinvolte nella nostra indagine hanno sentito come prioritario e quindi come qualcosa da far da far emergere per far questo utilizzeremo un'analisi SWOT si chiama cioè che consiste nel riportare inquadranti due direttrici cioè dei fattori interni e esterni all'organizzazione e degli elementi che possono favorire o ostacolare qualunque obiettivo che l'organizzazione si è posta in questo modo si vengono a creare questi quattro quadranti che vengono definiti punti di forza cioè le attribuzioni dell'organizzazione utili a raggiungere l'obiettivo e che in questo caso noi abbiamo identificato come la possibilità che ci hanno diciamo comunicato le amministrazioni partecipanti la serve di un'acquisizione di risorse interne mediante l'apertura alla possibilità di fare concorsi ma anche di attingere a risorse esterne per quanto riguarda invece le aree dell'amministrazione che vanno a rallentare il cambiamento gli elementi diciamo prioritari sono stati l'età media avanzata di molti dipendenti e il fatto che le prospettive di sviluppo di carriera non sempre favoriscono una motivazione alta al cambiamento e il fatto che in alcune realtà perdurano delle infrastrutture che non sono sempre efficienti e quindi non accompagnano non favoriscono l'innovazione oltre a un'eccessiva burocratizzazione che spesso è determinata proprio dalla complessità normativa per quanto riguarda invece i quadranti che vedete in basso si parla di minacce o opportunità ovviamente queste possono essere delle future risorse o dei futuri limiti a seconda di come la persona o l'organizzazione fronteggia quella situazione sicuramente tra le minacce abbiamo la pandemia che è stata quella che ha determinato una sorta di crisi a cui rispondere in qualche modo ma anche una crisi internazionale come diceva Antonio anche economica in questo senso la pandemia però ha attivato delle risorse quindi passiamo al quadrante delle opportunità quindi proprio perché la pandemia ha determinato delle condizioni di lavoro differenti in questo caso si è risposto con dei finanziamenti in più rispetto a quelli che erano previsti in precedenza proprio verso l'innovazione e anche gli eventi formativi che si sono moltiplicati in modalità anche più aperte quindi dando possibilità anche a chi non poteva recarsi fisicamente a fare la formazione di partecipare in più ovviamente anche il lavoro di rete si è diciamo agevolato nel momento in cui si cambia la mentalità della presenza o della possibilità di fare anche qualcosa a distanza quello che in queste slide ho inteso fare è riprendere un po' alcuni elementi che Antonio Tappi ha presentato nello scorso webinar degli elementi di interesse che avevamo rilevato dal confronto con le amministrazioni cercando di entrare un po' nello specifico e quindi vedere come sono collegate con il modello proposto questa che sembra un'azione molto teorica in realtà è molto pratica nel senso che è importante perché decodificare le proprie azioni incompetenze significa riuscire a creare una più profonda consapevolezza proprio di queste competenze che si hanno e quindi di individuare più precisamente dei bisogni formativi di cui si necessita e quindi una progettazione di una formazione ad hoc quindi non è solo una cosa teorica ma è un modo di ragionare che porta anche a delle conseguenze proprio pratiche in questo senso qui vedete che per la prima area che avevamo identificato quindi quella di guidare l'innovazione porterò l'attenzione su due elementi che secondo me sono importanti il primo è quello dell'assetto organizzativo come definisce l'articolo 17 del CAD il modello organizzativo oppone e deve porre il digitale come elemento cardine della trasformazione dell'ente e quindi in questo caso vi ho riportato l'organigramma della regione Puglia che ci è stato presentato dalla dottoressa Ragone nello scorso webinar la posizione apicale nell'organigramma dell'ufficio RTD comunica immediatamente un messaggio esplicito a tutti cioè che è centrale per l'organizzazione di tutto l'ente altri elementi di interesse sono il ruolo degli RTD cosa ci hanno detto gli RTD che è buona prassi centralizzare le strategie in modo da mantenere una coerenza nella governance che produce anche chiarezza di obiettivi di prassi e soprattutto di risultati da ottenere in che modo questi elementi vanno a declinarsi poi nelle competenze io vi ho evidenziato all'interno dell'area di competenza guidare innovazione due competenze secondo me fondamentali per quello di cui stiamo parlando e cioè la prima che è una visione e pianificazione strategica cioè una capacità di guardare di immaginare l'organizzazione come un'organizzazione innovativa e la capacità di condividere obiettivi abbiamo avuto voto di apprezzare da alcuni partecipanti esempi veramente esemplari scusate il gioco di parole di pianificazione strategica fatta da dei vertici che condividono anche gli obiettivi di cambiamento e questi diventano obiettivi di tutti passando invece all'area di gestione dell'innovazione andiamo a focalizzarci su alcuni di questi punti in primis l'innovazione digitale l'innovazione interna all'interno dell'amministrazione in questo caso le amministrazioni ci hanno detto che hanno fronteggiato la pandemia dando delle direttive ben precise di gestione del cambiamento che ha significato anche una transizione a forme di lavoro ibrido più flessibile alternato e ad azioni volte all'adeguamento di servizi offerti in modalità digitale altro elemento importantissimo è quello relativo alla formazione continua da una parte i partecipanti hanno rilevato un'importante presenza interna di competenze alte in alcuni casi anche rilevate con dei sensimenti delle competenze e quindi un valore aggiunto da un'altra parte hanno rilevato la necessità di ricorrere all'esterno per alcune competenze specifiche che può non essere un limite nel senso che se non è una necessità costante su competenze diciamo di medio livello può essere invece un'opportunità perché può determinare un aggiornamento continuo rispetto a ciò che il mercato chiede che il mercato offre altro elemento interessante che è emerso è proprio quello delle figure ponte cioè degli agenti di innovazione che consentono la governance centrale e le ramificazioni dell'amministrazione di comunicare e di trasmettere l'uni agli altri le necessità e diciamo le direttive non sempre queste risorse poi vengono però scelte in base ad un assessment specifico quindi magari un elemento che potrebbe essere approfondito e strutturato in maniera più funzionale un elemento che penso sia importante aggiungere e che mi sta molto a cuore è l'open government nei suoi elementi di partecipazione abbiamo avuto riscontri rispetto a processi di progettazione partecipata di documenti strategici operativi di condivisione di informazioni all'esterno e all'interno di lavori di rete con tutte le altre diciamo organizzazioni all'esterno dell'amministrazione e il saper coinvolgere il saper condividere il saper fare rete sono delle competenze relazionali fondamentali per il buon funzionamento di qualunque organizzazione esempi di progettazione partecipata rappresentano livelli veramente alti di coinvolgimento in cui c'è una condivisione della visione degli obiettivi dell'amministrazione ma anche determina dei vantaggi su diversi piani per esempio dal punto di vista di una maggiore formazione una maggiore consapevolezza di tutti gli attori rispetto ai problemi e anche alle possibili soluzioni ma anche crea un senso di identità di appartenenza all'ente e di corresponsabilità e anche determina la capacità di trasmettere competenze e conoscenze di tutte le risorse coinvolte in modo da promuovere e gestire progetti che in autonomia le risorse portano avanti e questo non fa altro che sviluppare l'empowerment individuale delle risorse ma anche un empowerment dell'organizzazione in questo senso ovviamente sono processi lunghi e sono processi che sono complessi ed è per questo che l'area di gestione dell'innovazione deve andare par di passo con l'area che ha una visione dell'innovazione dove ci collochiamo allora in queste competenze io ve ne ho identificate tre in cui secondo me tutto quello di cui abbiamo parlato viene a declinarsi per concludere il mio brevissimo intervento vi volevo lasciare con questa slide che sintetizza e sottolinea come aspetti hard come la riorganizzazione strutturale di una pubblica amministrazione o di una qualunque organizzazione che vede appunto questa governance centrale ma anche delle figure ponte che facilitano la trasmissione capillare di elementi di trasformazione digitale hanno necessità ovviamente di essere pianificati in un certo modo e hanno necessità di avere dei tempi dei tempi di maturazione però sono legati anche degli elementi più soft cioè alla trasmissione di una cultura dell'innovazione quella di cui parlava Antonio Tappi prima interessanti infatti sono proprio queste figure ponte che oggi traghettano le direttive nell'operatività e che sono più che altro rappresentate da delle risorse più smart che sostengono e aiutano alle risorse che hanno più mancanze dal punto di vista delle competenze digitali ma in prospettiva possono diventare a livello organizzativo proprio quel canale per la diffusione di un leadership diffusa quindi un modo per trasmettere più che una competenza o più competenze una cultura dell'innovazione la cultura è qualcosa ovviamente più profondo quindi non è a che fare con le persone che poi sono il motore del cambiamento ma il sistema cioè l'amministrazione in questo caso deve ovviamente agevolare questo processo e deve diventare un'organizzazione formante e qui mi collego al secondo punto evidenziato che in tutti gli intervistati diciamo hanno rilevato in maniera importante cioè la necessità di una formazione complessa non una formazione semplicemente di competenze di base per tutti ma una formazione su diverse competenze anche sulle soft skills quindi quelle più trasversali quelle più legate alle relazioni alla comunicazione che consentono la messa in campo poi di relazioni professionali funzionali al cambiamento quindi diciamo che la formazione viene intesa come contributo e stimolo alla crescita evolutiva di una persona e quindi a questo punto la risorsa interna valutata e apprezzata come persona non viene collocata in un percorso formativo che è trasmissione di conoscenze quindi meracquisizione di conoscenze ma la formazione viene progettata come piano organico che va a rinforzare la risorsa nella sua complessità quindi scendendo nel concreto non imparo la tecnica innovativa ma imparo ad essere innovativo se vogliamo fare un esempio non imparo a risolvere un problema ma imparo la competenza del problem solving quindi imparo come posso con la mia competenza risolvere qualunque problema a questo punto perché ho una competenza metodologica e non una competenza specifica segmentata insomma diciamo che il passaggio da fare è quello che si diceva un tempo nel settore della formazione passare dal saper fare al saper essere quindi questo a livello individuale ma anche a livello organizzativo passare da un'organizzazione che sa fare innovazione ad un'organizzazione che è essa stessa innovazione è essa stessa promotrice dell'innovazione indubbiamente è una sfida importante è una sfida complessa forse un po' difficile anche per oggi ci sono gli strumenti anche finanziari quelle opportunità di cui abbiamo parlato diciamo alla prima slide bisogna solo partire per chi non è ancora partito oppure proseguire per chi ha già iniziato il cammino quindi è solo necessario avere una visione e poi portarla in pratica all'interno delle amministrazioni e oggi gli strumenti ci sono io ho finito qui grazie a tutti e passo la parola a Patrizia allora grazie mille Teresa Teresa Tuozzi è stata particolarmente brava anche perché oggi aveva pure qualche linea di febbre non era proprio un'ottima salute fisica ma è stata efficacissima proprio nel ribadire quello che poi appunto diciamo sempre che porta a questo concetto di leadership diffusa che comunque le competenze di base hanno una loro importanza devono possederle tutti i cittadini ma mano a mano appunto che si va verso la promozione della transizione digitale ci sono altre competenze che devono intervenire e che riguardano appunto un po' tutta la sfera dell'agire operativo dei dipendenti della pubblica amministrazione quindi mano a mano appunto vanno affinate e devono essere portate da diciamo competenze per la cittadinanza digitale che sono rivolte a tutte a competenze per chi utilizza il digitale e quindi di base fino a competenze per chi implementa la trasformazione che cominciano a essere un po' più specifiche e a includere anche quelle soft skill a cui faceva riferimento Teresa e fino appunto a diciamo le competenze per chi decide la trasformazione digitale ma per chi la decide anche nel proprio ambito di intervento e quindi diventa un leader anche nell'ambito di operatività che poi gestisce quindi diventando un agente di innovazione dentro l'organizzazione quello che ci hanno aiutato a fare le amministrazioni che abbiamo appunto in qualche modo sentito e di cui abbiamo rilevato diciamo le caratteristiche organizzative rispetto ai temi della transizione digitale è stato proprio di vedere come l'organizzazione interna può supportare questo percorso e come la formazione deve essere assolutamente integrata al percorso organizzativo che l'amministrazione si è data per arrivare per raggiungere gli obiettivi della transizione digitale io a questo punto vi faccio una comunicazione che è di servizio perché ho visto l'altra volta che c'erano appunto delle domande anche rispetto a quello che c'è in giro sulle competenze digitali quindi io brevemente oggi vi dico quali sono i progetti su cui Formex è impegnato faccio un affondo su Formex perché in realtà stiamo lavorando con diversi committenti istituzionali sul tema delle competenze digitali quindi vi farò accenno a cinque progetti in particolare vi ho preparato due slide dove sostanzialmente due slide di sitografia perché ci sono i link dove trovate approfondimenti sulle cose che vi dirò sostanzialmente tutto questo è in divenire quindi io vi invito sempre a consultare l'home page di Formex perché nell'home page di Formex ci sono sempre tutte le notizie che vi portano alle iniziative che noi stiamo mettendo in campo a questo proposito come vedete sono anche concomitanti perché ho visto in chat qualcuno citava il webinar valutare le competenze digitali del 7 giugno che è un webinar che non è nel nostro progetto ma che sicuramente si occupa di un aspetto anche delle competenze digitali e vi consiglio di partecipare il nostro mentre quello è alle 14.30 il nostro è a mezzogiorno e sarà una tavola rotonda con le amministrazioni come vi dicevo a breve troverete anche il programma che stiamo definendo sul sito allora partiamo dal fatto che il piano nazionale di ripresa e di resilienza chiaramente sostiene che le persone prima che le tecnologie sono il motore del cambiamento e dell'innovazione ed è appunto la linea che noi abbiamo portato avanti in tutta questa parte diciamo di ricerca del progetto sulle competenze digitali questo lo vedete chiaramente nel piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze dei dipendenti e della pubblica amministrazione che sta proprio sull'home page del dipartimento della funzione pubblica nella pagina del ministro brunetta quindi trovate lì il riferimento con tutte le iniziative che sono in atto per fare questo vi parlo poi in particolare di un progetto che alcuni di voi conosceranno di già perché è in campo da diversi anni che è competenze digitali per la pubblica amministrazione Formez lo realizza insieme al dipartimento della funzione pubblica ed è un programma che sostanzialmente mira a formare dipendenti pubblici non specialisti IT quindi non diciamo informatici ma a dare una formazione finalizzata in modalità sempre e-learning sulle competenze digitali di base con la particolarità che queste competenze digitali di base sono per il dipendente della pubblica amministrazione come sapete su questo è stato costruito un framework di riferimento che in qualche modo si rifà al framework europeo che è il Digicomp che riguarda le competenze dei cittadini le competenze digitali di tutti i cittadini allora invece il Sillabus così è stato chiamato riguarda le competenze digitali in particolare dei dipendenti dell'APA anche se ci sono tre livelli nel definire queste competenze che sono appunto di base intermedio e avanzato sono prevalentemente competenze di base che riguardano gli ambiti di lavoro appunto dei dipendenti pubblici al link che voi vedete qui e che vi ho riportato competenzedigitali.gov.it trovate il programma che si basa appunto sui tre elementi fondamentali la descrizione del Sillabus che vi dice quali sono le macro aree di competenza sono cinque non ve le sto a descrivere perché appunto ve le andate a vedere direttamente sul sito c'è una piattaforma online attraverso il quale un dipendente pubblico se la propria amministrazione ha aderito all'iniziativa può accedere facendo un assessment rispetto appunto quindi una valutazione delle competenze possedute per attraverso appunto delle domande che riguardano queste cinque macro aree che vi dicevo dopo questo assessment l'utente viene indirizzato a una formazione che ha diciamo l'obiettivo di colmare quelle che sono stati i gap rilevati dall'autovalutazione allora c'è un catalogo della formazione Formez ha diciamo prodotto la maggior parte dei materiali che sono presenti e che riguardano appunto le competenze così come sono descritte nel syllabus ma c'è anche una attivazione con con grandi player che sono sia pubblici sia privati quindi a questo sito trovate tutte le indicazioni per partecipare sperando che la vostra amministrazione abbia aderito all'iniziativa perché non può partecipare il singolo deve aderire l'amministrazione e poi possono partecipare i singoli un altro progetto che Formez gestisce con il dipartimento per la trasformazione digitale è il progetto che ricade all'interno di un programma più ampio che si chiama Repubblica Digitale e che si chiama ACCEDI quindi un ambiente per una cittadinanza consapevole attraverso l'educazione digitale questo è l'acronimo diciamo scorporato e attraverso attraverso questa piattaforma che è rivolta a tutti i cittadini potete vedere che si promuovono le competenze digitali come dicevamo prima che fanno riferimento al framework europeo che è il Digicomp che appunto riguarda le competenze digitali di tutti i cittadini vi ho messo anche il link di un premio che è stato organizzato all'interno del progetto ACCEDI sono state premiate delle iniziative presentate da alcune da privati sostanzialmente quindi c'erano anche delle amministrazioni c'era la regione Veneto insomma da privati e da pubblica amministrazione perché così appunto potete vedere anche un po' quello che si muove non solo nel panorama diciamo più complessivo nazionale di rapporto con ministeri e dipartimenti ma anche localmente questo premio ha diciamo ha favorito in questo caso era sul digitale inclusivo e digitale contro il divario di genere però se andate a vedere appunto i link che vi ho indicato potete farvi un'idea un altro progetto che vi vorrei segnalare è quello che si sta facendo con aspettate che vado avanti la slide successiva col dipartimento per la trasformazione digitale il dipartimento per le politiche giovanili in particolare il servizio civile universale si chiama progetto scudi e riguarda il servizio civile digitale è rivolto ad enti di servizio civile universale che possono presentare programmi di intervento per favorire iniziative che accrescono le capacità e le competenze digitali dei cittadini attraverso il servizio civile universale quindi ci sono dei volontari quelli che fanno appunto addetti al servizio civile che vengono diciamo formati proprio per educare alle competenze digitali una buona parte diciamo di popolazione quelli a cui possono possono rivolgersi qui trovate il link a un webinar che noi abbiamo realizzato il 25 febbraio scorso e che ha appunto in cui potete vedere più o meno come si dipana il progetto che è in una fase iniziale quindi questo lo potete seguire dall'inizio è diciamo sarà troverà la sua fase diciamo matura nel momento in cui verranno appunto valorizzate le le competenze dei dei volontari che le riverseranno appunto poi su progetti per diffondere le competenze digitali a favore appunto dei cittadini l'altro progetto che vi cito è naturalmente questo quello su cui stiamo realizzando questa iniziativa perché all'interno della nostra linea 1 quindi questo progetto lo stiamo realizzando con Agid che è il nostro committente che ha un programma diciamo più ampio che si chiama Italia Login nella casa del cittadino di cui vi ricorderete iniziative simili già negli anni passati questo programma è stato rifinanziato rinnovato ha dato vita appunto a questo progetto e all'interno della linea 1 ma non soltanto parliamo di competenze digitali all'interno della linea 2 e 3 si parla appunto di gestione documentale e si parla di open data e quindi diciamo questo progetto in particolare realizza realizza attività per favorire gli RTD in qualche modo per i responsabili della transizione al digitale e anche diciamo nella loro messa in rete perché appunto ci sono esempi di community eccetera eccetera quindi che stanno in fase di definizione vi ho detto più o meno tutto c'è un altro progetto che vi voglio citare che non ho riportato qui perché trovate tutte le informazioni sul sito che è stato da poco rinnovato che è quello di open government cioè è il progetto che ha realizzato l'iniziativa in cui siamo ricaduti diciamo la scorsa settimana quella dell'open gov week che è un progetto che favorisce il metodo del governo aperto lo realizza il dipartimento della funzione pubblica insieme a formets è un progetto che ha di particolare proprio quello di esplorare le dimensioni dell'accountability della partecipazione della integrità e della trasparenza che fanno appunto un governo aperto è un progetto che si realizza non solo nel contesto italiano ma appunto si avvale del supporto di una rete che è europea ma anche internazionale che appunto è la rete è il forum dell'open government e all'interno del quale naturalmente ci sono altre iniziative che riguardano il miglioramento dei servizi digitali che riguardano appunto saranno dei corsi online dei MOOC che verranno rilasciati quindi come vedete noi siamo fortemente impegnati come direzione innovazione digitale dentro il formets a portare avanti queste linee tematiche che da sempre oserei dire seguiamo siamo stati io mi vanto anche un po' di questa cosa siamo stati i primi a realizzare un corso online sull'e-leadership tra l'altro portando avanti questo concetto dell'e-leadership diffusa perché è una cosa a cui noi crediamo nel senso che non soltanto chi ha responsabilità apicali può trasformare in senso innovativo il contesto di lavoro ma pensiamo che appunto in un'ottica di inclusione digitale di inclusione innovativa tutti possano dare un contributo e appunto in quel corso online del 2015 sostenevamo proprio questo come continuiamo a fare e come appunto poi in qualche modo sosteniamo in tutte le attività questo è un concetto che ci orienta molto nelle attività che facciamo allora io avrei finito non so se ci sono delle domande vedo che qualche domanda c'è su questo vi rimando sempre al sito del del Formez vi ricordo che appunto c'è il nostro ultimo appuntamento il 7 giugno e vediamo se ci sono le domande e a chi si sono rivolte provo a rispondere io a una prima osservazione cioè la relazione tra il manager di innovazione e il responsabile di transizione digitale che ci chiede un collega di fatto allora c'è un primo un primo assunto di base che ovviamente responsabile di transizione digitale avendo delle responsabilità e dovendo gestire all'interno della propria amministrazione una serie di attività di elementi che appunto diciamo poi vengono indubiti dalla norma ovviamente ha un suo percorso in cui molte delle competenze che noi abbiamo riportato nel profilo manager di innovazione sono sicuramente diciamo sono sicuramente insomma affini a quello che è la responsabilità la differenza un po' sostanziale che io diciamo così mi sento insomma di di poter attenzionare è che intanto voglio dire noi usciamo e si cerca di uscire da gli adempimenti da norma rispetto a quelle che sono le competenze effettivamente necessarie o perlomeno diciamo in questo framework che noi stiamo abbiamo elaborato ci sembravano necessarie cioè quello di cercare di proprio diciamo tranciare questo aspetto norma adempimento rispetto a competenza e reali necessità l'abbiamo rilevato anche dai casi di studio nell'intervento di di Teresa cioè gli elementi diciamo che sono farsi diciamo emersi sono molti anche che vanno al di là dell'accoglimento rispetto a delle dinamiche che vengono stabiliti alla norma ed è proprio un po' questo cercare di ragionare più in termini di diciamo di quello che all'interno dell'amministrazione si sta sta cambiando e come lo riesco a seguire con quali competenze con quali conoscenze con quali abilità quindi in qualche maniera ovviamente il manager dell'innovazione di profilo e le responsabili della sessione digitale si parlano si identificano abbastanza per molte delle competenze che abbiamo riportato nel modello ma non sono sicuramente tutte o comunque possono essere diciamo magari quegli elementi che ci vanno a rafforzare ancora di più il modello perché possono emergere dall'esperienza all'interno dell'amministrazione delle responsabili che peraltro voglio dire anche questo che ovviamente rispetto alla tipologia di amministrazione in cui interviene ha diverse diverse attività da svolgere diverse responsabilità o diverse come dice diciamo effettive competenze cioè per portare avanti poi quello che diciamo deve portare a casa in termini diciamo di servizio dell'amministrazione il piccolo comune è sicuramente diverso dalla grande amministrazione in qualche maniera cerchiamo anche di cogliere quelli aspetti che probabilmente nella diciamo nel nostro processo di lavoro ancora infieri di come si di aggiornamento dei casi di studio potremmo andare un po' nello specifico delle amministrazioni di tipologia un po' più tipo dei piccoli comuni insomma che vorremmo un po' andare e questo è un po' attivo e poi c'era una domanda del processo di semplificazione provo sempre a rispondere io ma ovviamente Teresa e Patrizia se avete diciamo il processo di semplificazione diciamo da questo punto di vista insomma non sicuramente ha un impatto sul modello organizzativo qual è il modello di competenze che andiamo a riportare però sinceramente sicuramente c'è un intervento che di semplificazione sta avvenendo ma non sinceramente non 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 saprei diciamo come come rispondere in maniera precisa a questa sicuramente quello che noi riportiamo nel modello questo lo posso dire e cerca di trovare gli aspetti e le competenze che che vanno da diciamo un po' a semplificare i processi all'interno insomma in qualche maniera andiamo a ricercare a cercare di trovare necessità che vanno a semplificare gli aspetti organizzativi per far fluire in effetti i processi di innovazione all'interno della situazione poi questo posso integrarlo Antonio perché il processo sulla semplificazione si continua ad andare avanti nei progetti almeno del formez e del dipartimento della funzione pubblica perché una cosa è la semplificazione amministrativa che riguarda appunto la semplificazione di tutti quelli che sono i procedimenti amministrativi che fanno capo poi ai diversi livelli delle amministrazioni su quello vedete ci sono anche dei progetti in corso se guardate la pagina di formez all'interno di questo progetto c'è stata una linea all'interno della linea 1 per esempio che ha lavorato con un consulente storico che lavora su questo che insieme ad Agide ha messo appunto ha semplificato la modulistica nazionale quindi andando verso dei moduli unici condivisi da tutte le amministrazioni e lavorando insieme a quelli che sono gli enti terzi ogni volta coinvolti nei processi autorizzatori quindi dentro questo progetto c'è stato anche un piccolo filone che ha lavorato sulla semplificazione che è normativa burocratica e che naturalmente diciamo l'innovazione digitale dovrebbe favorire ulteriormente quindi su questo trovate anche appunto delle indicazioni sul sito di Formez e stiamo andando stiamo andando avanti si va avanti lentamente perché semplificare non è semplice quindi sembra sembra una banalità però siamo ancora ai moduli unici nazionali perché non ci sono perché usciamo da una situazione in cui già la modulistica era diversa in ogni amministrazione quindi fare questo percorso ha implicato diciamo un coinvolgimento diretto del Dipartimento della Funzione Pubblica con progetti precedenti e questa cosa è ancora in corso naturalmente il digitale può dare una mano molto importante in questo e quindi diciamo anche sviluppare le competenze naturalmente favorisce competenze digitali favorisce tutto il processo di semplificazione in atto allora i piccoli comuni c'è un problema nel trovare le competenze per RTP certo come c'è problema per trovare diciamo competenze per tutte quelle che sono figure specifiche quindi diciamo per i piccoli comuni quello che noi diciamo ma già dai tempi in cui appunto c'era il responsabile dello sportello unico poi c'è stato il responsabile per la prevenzione della corruzione eccetera eccetera quello che diciamo ovviamente in queste situazioni è che la soluzione dovrebbe essere organizzativa cioè ci dovrebbe essere l'unione di comuni che poi l'associazione dei comuni l'unione dei comuni che in qualche modo gestisce queste figure per un numero più numeroso di amministrazioni e anche per appunto un numero più cospicuo di cittadini che devono a cui queste amministrazioni devono rispondere anche su questo c'è un progetto piccoli comuni che è in fase di progettazione esecutiva adesso a Formez ma come vedete appunto anche su questo ci sono notizie sulla pagina sull'ompeggio del nostro sito non so Teresa andando avanti con le altre cose c'è una riflessione di Salvina Sollena o Sollena non so mi scuso se ho sbagliato a dirlo che dice nonostante da anni nella scuola media sia obbligatorio adottare libri di matematica che comprendono l'assetto informatico per competenze digitali i docenti nel 95% dei casi non fanno neanche aprire tali tomi non sono in grado di affrontare l'argomento seppur a livello base bisognerebbe dunque pensare alla formazione dei formatori allora su questo mi sento di dire che quello di cui abbiamo parlato prima cioè del dover integrare la parte di vision la parte di strategia con la parte operativa di chi poi gestisce quell'innovazione è fondamentale è per questo che i processi di creazione di strategie condivise e di diciamo condivisione anche degli obiettivi in modo partecipato rende le risorse anche più pronte a utilizzare degli strumenti perché io posso dare degli strumenti innovativi ma se la persona che li deve utilizzare non condivide neanche l'obiettivo di innovazione ovviamente farà fatica e quindi porterà avanti le competenze che ha utilizzato finora ed è proprio per questo che come nella pubblica amministrazione come in un comune anche la scuola è un'organizzazione ed è un'organizzazione che ha un punto un vertice strategico e poi ha delle ramificazioni cioè diversi istituti e anche lì c'è una piramide c'è chi dirige la scuola e poi ci sono le risorse quelle più a contatto con l'utenza con i bambini con i ragazzi ed è proprio questa diciamo integrazione di chi guarda al futuro e chi lo deve portare nella pratica che non può essere troppo scollato quindi sicuramente sì nel momento in cui c'è una necessità di innovazione vanno formati anche i formatori ovviamente perché altrimenti non c'è condivisione di obiettivi quindi questo mi sentivo di di sostenere ecco questa riflessione Benissimo l'ultima risposta credo che poi sia quella che do a Giuseppina Irrera vi leggo la domanda per gestire il cambiamento serve integrare il capitale umano la cui età media si aggira tra 55 e i 60 anni allora questo Giuseppina sta avvenendo perché appunto Formez stesso che organizza con Ripam con questa nostra struttura Ripam molti dei concorsi che sta organizzando la pubblica amministrazione proprio per mettere in atto questo cambiamento generazionale e quindi è un processo che si è avviato l'altra cosa su cui però vi voglio insomma vi voglio far riflettere è che questa fascia d'età che è indicata appunto 55-60 anni non è proprio una fascia da buttare via perché tanto perché ci ricado io e quindi mi sento anche un po' così ma non è una fascia da buttare via perché è quella che ha la maggiore conoscenza dentro l'amministrazione di quelli che sono i percorsi i procedimenti le regole le procedure e quindi io vi segnalo su questo un processo un progetto molto diciamo interessante e innovativo che aveva portato avanti la provincia autonoma di Trento in cui la responsabile di risorse umane aveva gestito l'arrivo di nuove risorse di giovani risorse sicuramente diciamo più favorevoli al digitale quindi con una cultura digitale più avanzata aveva diciamo favorito uno scambio che riguardava appunto questa parte per i giovani con le persone diciamo più adulte dentro l'amministrazione che però conoscevano appunto tutte quelle che erano le procedure amministrative che conoscevano appunto quelli che sono i percorsi attraverso tutta l'amministrazione che devono fare i procedimenti e quindi diciamo sapevano gestire anche il risultato verso l'utente favorire questo scambio tra generazioni quindi chi ha conoscenza e competenza rispetto all'amministrazione e chi ha invece più dimestichezza con il digitale sicuramente si è rivelato almeno nella provincia autonoma di Trento che sicuramente è un contesto molto limitato anche numericamente in cui è facile che le cose riescano e comunque lì era stato diciamo un esperimento di successo quindi andrebbe sfruttata anche quella diciamo quelle caratteristiche andrebbero in qualche modo valorizzate allora non so se ci sono altre domande se non le vedo io se mi sono sfuggite vero si stanno facendo molti concorsi ma i metodi di reclutamento e soprattutto le competenze richieste non hanno nulla di innovativo sono come 40 anni fa con una prova quasi eventuale di inglese e di informatica però io vedo che ci sono anche altre cose che stanno organizzando diciamo anche i nostri colleghi di RIPAM che non sono diciamo limitati a questi due aspetti perché diciamo anche questo aspetto delle soft skill a cui facevamo riferimento ha fatto in qualche modo negli ultimi tempi favorire una riflessione su quelle che sono le competenze trasversali che servono anche a completamento di quelle competenze diciamo più specialistiche più di contesto che serve avere nella pubblica amministrazione l'affiancamento è quello Salvina Solle è proprio quello che dicevo appunto nel anche nel progetto della provincia autonoma di Tret in realtà è stato un affiancamento ai giovani che non sono stati semplicemente affiancati ma che in caso hanno diciamo ripagato l'affiancamento con una una versatilità più su quello sull'uso degli strumenti digitali e quindi che è stata diciamo indirizzata verso le persone un po' più adulte dentro l'amministrazione allora vi pare che siamo anche un po' fuori tempo quindi io chiuderei qui il webinar sono appunto molto contenta che abbia testato il vostro interesse oggi avete partecipato numerosi perché a un certo punto eravate più di 500 quindi vi ringrazio tantissimo per la partecipazione vi rimando al 7 giugno dalle 12 alle 13 e 30 e metteremo il programma della tavola rotonda tavola rotonda sarà più un focus group che faremo appunto con queste amministrazioni che sono quelle che in qualche modo hanno risposto anche alla nostra indagine di cui oggi avete avuto i risultati sarà per voi interessante vedere come stanno portando avanti questi processi di cui vi abbiamo parlato vi ricordo oggi pomeriggio alle 2 e mezza ci dovrebbe essere un webinar che trovate sempre segnalato su Eventi PA che fa riferimento all'aggiornamento del DigiComp cioè al framework delle competenze digitali elaborato a livello europeo per tutti i cittadini perché mentre noi qui abbiamo utilizzato la versione 2.1 mentre lavoravamo è uscita la 2.2 e come vi diceva già Antonio Tappi nella sua esposizione oggi pomeriggio questo webinar esplorerà i cambiamenti se è un po' arricchito anche di esempi della parte dei scrittori secondo me appunto se vi è interessato questo webinar vi interesserà anche l'altro vi ringrazio e vi do appuntamento allora alla settimana grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti